Il match valido per il primo turno di Coppa Italia in programma per domenica 28 agosto alle ore 16 tra San Cataldese e Paternò si disputerà allo stadio comunale Valentino Mazzola di San Cataldo. Secondo impegno di fila tra le muramiche per la squadra di Matteo Vullo che è già tornata ad allenarsi dopo la vittoria contro il Catania per presentarsi nel migliore dei modi anche al secondo appuntamento ufficiale della stagione. Il rodaggio è destinato comunque a continuare per le società del gironei di Serie D dopo che la Lega ha annunciato lo slittamento della prima giornata di campionato al 18 settembre per il caso Giarre. Poco più di tre settimane dunque per arrivare a quella data nelle condizioni migliori almeno dal punto di vista fisico. Tornando alla partita con il Paternò i tifosi verde amaranto anche quelli paternesi in verità sperano che per la prossima partita la dirigenza della San Cataldese rivede il costo del biglietto che contro il Catania era stato fissato a 15 euro in tutti i settori. Un prezzo che era stato ritenuto troppo alto per la categoria e l'ambito della competizione. Dopo il successo con il Catania si attende un aumento delle presenze sugli spalti da parte dei tifosi verde amaranto molti dei quali sperano in un campionato che vada al di là di un'onorevole salvezza.